ciao bambini mi chiamo Ugo e questo è il mio canale Ugo Kids TV oggi bambini andremo alla scoperta dei trattori e dei mezzi agricoli siete pronti? stanno arrivando trattore trattore cingolato mieti trebbia trattore con imballatrice trattore con caricatore frontale trattore con carro rimorchio trattore con aratro moto coltivatore trattore con seminatrice coltivatore vi aspetto al prossimo video non mancate non mancate